salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video qualche giorno fa la zero zero robotics l'azienda produttrice del vicopter falcon questo drone che io sono stato il primo a portare su youtube italia perché l'ho tenuto preordinato praticamente due anni ha pubblicato nel suo canale ufficiale un trailer o diciamo uno spot pubblicitario della community che utilizza questo drone sono contento di essere apparso lì anche se non me l'hanno chiesto quindi sono apparso senza saperlo sono contento di essere apparsi in questo piccolo video pubblicitario perché gli altri miei compagni d'avventura in questo trailer sono veramente dei personaggi famosissimi su youtube america soprattutto quindi tanta tanta roba sono contento di questo però la differenza è una sola che loro il drone sicuramente l'hanno ricevuto dalla zero zero robotics io invece me lo sono comprato ho tenuto preordinato due anni e poi anche la clip che si vede di nicola di e non derod che ha utilizzato il mio vicopter falcon anche lui appare in questo trailer però il maggior numero di clip utilizzate sono le mie infatti ve le segnalerò perché in alcune appaio io fisicamente quindi ok mi riconoscete ma altre sono mie clip fatte con il vicopter falcon e sono state utilizzate appunto per questo trailer quindi detto tutto questo e da questo si capisce anche un po com'è la zero zero robotics dal punto di vista del marketing che sicuramente non è un'azienda che sia un'eccellenza da questo punto di vista e anche in altri a parte l'avere progettato un drone sicuramente innovativo due anni fa anche se adesso ovviamente per tanti aspetti purtroppo troppo troppo vecchio rispetto alla concorrenza anche se rimane sicuramente innovativo e unico ma detto tutto questo adesso vi lascio il trailer della community creato dalla zero zero robotics iniziamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti